Il Consiglio di Stato ha rinviato a luglio prossimo la decisione nel merito dei ricorsi avanzati contro la decadenza della concessione demaniale in capo alla Porto di Imperia Spa emessa dal Comune Capoluogo. Ad avanzare il ricorso al Consiglio di Stato, dopo la sentenza del Tar che aveva dato ragione al Comune, erano stati oltre alla Porto Spa anche le banche che avevano finanziato il nuovo vaccino turistico con l'accensione sullo stesso di un'ipoteca, la società Acquamare, socia della Porto Spa e alcuni titolari di posti barca. Il Consiglio di Stato ha anche deciso di unificare tutti i ricorsi in un unico procedimento. Il rinvio è scaturito anche a seguito del fatto che le parti ricorrenti hanno presentato quale prova a sostegno delle loro ragioni il fatto che il Comune abbia di recente riscosso le fiduzioni legate al Porto e quindi sia stato comunque garantito per le sue aspettanze, una tesi ovviamente contestata dalla controparte.